Solo 4 non obiettori su 20 ginecologi in tutta la asla di Mestre Venezia. In Veneto l'80% dei medici è obiettore di coscienza, dati che dimostrano come la legge 194 che tutela l'interruzione di gravidanza non sia veramente applicata. A Mestre Venezia le donne che decidono di ricorrere all'aborto, soprattutto perché la gravidanza mette a rischio la salute della madre del feto, si trovano quindi di fronte a un muro che nega un diritto per cui il riconoscimento si è tanto lottato. Imperversa intanto la bufera sulla mozione approvata dal Consiglio Comunale a favore dei medici obiettori. La bocciatura arriva sia dalla rete delle donne di Senonora Quando, sia dalla Presidente della Commissione Provinciale Pari Opportunità, Maria Elena Tomà, che definiscono la mozione superficiale e fuorviante. E se il consigliere comunale del PD Gabriele Scaramuzza corre ai ripari dicendosi pronto a un dibattito serio sulla questione per arrivare a una vera applicazione della legge, per ora la norma nazionale scarica la responsabilità di una scelta difficile e tanto drammatica come l'aborto solo sulle spalle delle donne. Grazie